La seconda corsa dall'Ippodromo Arcoveggio di Bologna è una prova per 4 anni, non vincitori di 12.000 euro nella carriera, sono in 6 a parteciparvi. Una fila completa con il numero 1 Chanel di VS, Marco Stefani per i treni di Battista Congio, 2 Caio Vettonio, Mario Greco, 3 Capinera Jet, Alessandro Gocciadoro, 4 Cari Balilla, Davide Angeletti per Francesco Zedda, 5 Cico De Gleris, Alessandro Fonte per Massimo Trevellina, 6 Creed Matley, Maurizio Cheli per Cristian Rossi. Favorita è Capinera Jetta nei confronti di Cico De Gleris, i due più attesi sono loro, il 3 e il 5. L'autostarto che prende velocità e allo stacco è veloce Cico De Gleris che cerca di andare a condurre nei confronti di Cari Balilla, scende allo steccato l'allievo di Alessandro Fonte che va al comando nei confronti di Cari Balilla, mentre galoppa Chanel di VS e lascia così in terza posizione. Numero 1 Chanel di VS squalificato. Di fuori è Caio Vettonio, poi Capinera Jet. I primi 200 se ne vanno in 14 e 4 con Cico De Gleris all'avanguardia, Cari Balilla in seconda posizione, Creed Matley in terza. Si muove all'esterno Capinera Jetta. Primo quarto se ne va via in 30, Cico in vantaggio, Capinera all'esterno, Cari Balilla alla corda. Quindi Creed Matley e Caio Vettonio che chiude il drappello. Se ne vanno i 600 metri in 45 e mezzo con Cico De Gleris che guida Capinera Jetta al suo esterno. In privata ora dei tappi estraibili inizia a costringere il leader a camminare un altro 30, un minuto per la metà gara. Cico De Gleris in vantaggio, Capinera Jetta di fuori, Cari Balilla lungo la corda. Poi Creed Matley e Caio Vettonio. Siamo in prossimità del chilometro, sbaglia Capinera Jetta. E allora Cico De Gleris passa il chilometro e 1.15.1. Nella sua scia c'è Cari Balilla. Poi in terza posizione Creed Matley avanti a Caio Vettonio. A 400 dalla conclusione sposta Cari Balilla dalla seconda posizione alla corda. L'Hidra ha fatto un altro 32 e si mantiene in evidenza di fuori Cari Balilla. Poi lungo lo steccato Creed Matley attacca Cari Balilla. Si difende Cico De Gleris all'imbocco della retta arrivo. 14.8 per la piegata conclusiva. Cico in vantaggio, Cari Balilla che attacca all'esterno. Cico che si difende e Cari che continua ad attaccare. Testa a testa tra i due, tra Cico De Gleris e Cari Balilla. Fink sul palo ed è stretta tra Cico De Gleris e Cari Balilla. 29.4 la chiusa, i due inseparabili. 1.14.3 il raguaglio cronometrico. Bisogna andare a rivederla. Quanto meno nelle immagini se non al photo finish. Con Cico De Gleris che si è difeso allo steccato prima dall'attacco di Capinera Jet. Poi ha resa sì in errore. E poi quello di Cari Balilla. I due sono piombati contemporaneamente sul traguardo con Cico De Gleris che si difende, si salva e vince nei confronti di Cari Balilla. Grazie. 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 Grazie.